scrivere codice di cui ti pentirai ogni giorno che vuol dire non solo aver rispetto diciamo per se stessi ma anche per gli altri per quelli che lavoreranno a voi sul tuo codice si integra questa cosa con un certo senso con manifest agile per quelli che sono possono essere considerati i primi due principi di manifestazione che sono individuasi e interazioni e working software